anche quest'anno è arrivata la chiusura della stagione vi faccio vedere alcuni momenti naturalmente portiamo sempre il cibo pronto da casa il sap poi lo smonteremo più avanti questo è il carrettino che portiamo in doccia per tenere appoggiate le cose come vedete è messo abbastanza male quindi in primavera lo riverniceremo e adesso gli do una pulita perché è veramente svuccio in filipi non credo come nel il santo Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.